Carlo ti faccio vedere come si impostano queste pagine in modo tale che le immagini, i testi appaiono tutti correttamente. Questo già lo conosci. Immagine. All'immagine devo dare una classe ritratto. Sempre nelle proprietà dell'immagine, in avanzate, vedi che c'è il titolo. Il titolo praticamente è la didascalia. Una volta che ho fatto tutto questo, seleziono e gli do attraverso questo comando, div, la classe quote. Fine. Il risultato è questo qui. Grazie. 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 Grazie.